Dall'omicidio al tentato omicidio, dalle rapine ai furti, dalle violenze sessuali allo stalking, passando per i maltrattamenti in famiglia o verso i minori e ancora estorsioni, spaccio di droga e reati contro il patrimonio culturale. È stata davvero ad ampio raggio l'azione di prevenzione e contrasto dei carabinieri del comando provinciale di Sernia durante l'anno che sta per concludersi. I 62 arresti e le oltre 950 denunce testimoniano un impegno costante dell'arma su tutto il territorio provinciale. È stato un anno sicuramente molto impegnativo per l'arma della provincia di Sernia che è articolata su 22 stazioni, i nuclei operativi radiomobili delle compagnie di Sernia, Benafro e Agnone e il nucleo investigativo del comando provinciale. Sono risultati molto lusinghieri, molto importanti che testimoniano come il processo di coordinamento tra le forze di polizia al cui vertice vediamo la figura del prefetto, ha dato i suoi risultati. Sicuramente una capacità di intercettare quelle che sono le esigenze di sicurezza della cittadinanza, della popolazione, ottenendo un numero molto apprezzabile di denunce a piede libero che hanno interessato le più diverse fatti specie di reati. Così come l'attività repressiva più incisiva che ha visto il 70 per cento degli arresti accreditati all'attività dell'arma. Ma voglio in questo contesto anche sottolineare l'impegno dei reparti speciali, dell'ispettorato del lavoro come del NAS, il nucleo operativo ecologico e il contributo molto importante dei carabinieri forestali che in una provincia così articolata e così montuosa hanno consentito di avere un capillare controllo anche delle parti del territorio meno prossime ai centri abitati. Le attività preventive hanno giocato come sempre un ruolo di primordine. Grazie agli incontri periodici organizzati con gli anziani in diversi centri della provincia è stato possibile individuare e denunciare molti truffatori, mentre le misure di prevenzione aumentate del 40 per cento rispetto all'anno precedente hanno consentito di tenere lontane dalla provincia di Sernia persone poco raccomandabili. Importante anche l'attività svolta dal nucleo ispettorato del lavoro. Se ci sono stati meno infortuni lo si deve anche ai controlli sempre più assidui effettuati soprattutto nei cantieri edili.